No, sto bene, ormai l'intervento è passato, manca poco, manca meno di prima. Ho ricevuto tantissimi messaggi, dimostrazioni di vicinanza nei miei confronti, che questo sicuramente mi ha fatto un enorme piacere. La cosa più importante è che stia bene quando rientri, e soprattutto guarire bene, e dopo vedremo quando sarà e quanto ci metterò a tornare in campo. Se adesso devo stare tre settimane senza appoggiare, dopodiché altre tre settimane con un tutore, iniziare a camminare piano piano, e da lì ripartire con il lavoro di riabilitazione.